Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come il panel elettrico di MyElectronics è composto. È utile per le molte applicazioni elettroniche. Il panel consiste di distribuzione di distribuzione di superficie di superficie. La storia di H1 è 12 moduli. Nel primo, potete trovare un circuit breaker che protegge tutto dal circuito di superficie, l'overlazione e la scuola di correnti. Se avvicinare, la lampa di indicatore si avvicina e i 4 soccati sono portati. Molto importante per la sicurezza è la scuola di scuola. Se avvicinare, il circuit breaker si avvicina automaticamente. Come funziona? Cosa funziona? Cosa simulare una scuola di scuola di circa 60 mA per il resistore, che causa l'intervenzione del switch principale. Nel terzo, potete trovare l'output di due trasformerci e due supporti di potenza. Questi sono trovati in questa scuola di junzione, e guidati da tre switch. Il primo è il supporto di potenza per un piccolo trasformer di isolazione. L'output è collegato ad un piccolo soccato, utente per distribuire i circuiti elettronici sicuramente. L'avvento principale è la limitazione di correnta in caso di circuiti corti. In addition, l'installazione elettrica dalla fuori principale provi a evitare i leakaggi di correnti all'interno. La seconda scuola ha il potenza di potenza per un trasformer di centrale di 24V. Il suo output è collegato ai tre collegamenti di scuola. In questo modo, se connessi un dispositivo tra l'altro centrale e l'altro, ottenete 12V. Inoltre, ottenete 24V tra gli extremi. La terza scuola, DC Power, offre il potenza di potenza delle due potenze, che sono locati nella scuola di junzione. Questi sono collegati ai tre collegamenti di scuola, 0, 5 e 12V. Il collegamento di 0V è collegato al polo negativo di due potenze. Mi consiglio di collegarlo anche all'interno, in modo da evitare i shock che potrebbero i circuiti elettronici. Come potete vedere, ogni output ha un'indicator lampo. È collegato dopo il fuso, quindi se si rompe il circuito a causa di un overload o un circuito corto, la lampa si riuscita. Come potete vedere, se ho eliminato il fuso, l'indicator lampa si riuscita. Il valore del fuso nominale di ogni fuso è lo stesso del trasformer, o del potenza di potenza che è collegato anche. per esempio, 130 mA per il trasformer di isolazione, 4 mA per i trasformer di centrale, 2 mA per il 5V output e 3 mA per il 12V 1. Grazie per la visione e ci vediamo!